7 luglio al manacoroscopo ben trovati e trovati da mauro beato benedetto undicesimo quest'oggi i compleanni lo spettacolo licia colò una brava conduttrice tv è nata il 7 luglio del 1962 e poi abbiamo il cantante italiano toto cutugno ancora l'italiano in tutti i sensi 7 luglio 1943 frase del giorno e poi l'oroscopo lo sciocco non perdona e non dimentica l'ingenuo perdona e dimentica il saggio perdona ma non dimentica ariete coincidenze fortunate vi fanno guadagnare tempo un progetto va a buon fine desiderio di movimento gli impegni di routine per ora vi frenano ma la situazione si dinamizza gratificazioni e incremento nel lavoro sintonia anche nei rapporti di coppia insomma un'ottima giornata in toro le lamentele di qualcuno vanno ridimensionate tocca a voi spianare la situazione favorite le iniziative che vi portano a contattare nuovi ambienti segni di instabilità nei sentimenti e voglia di cambiamento gemelli molto lavoro extra concedetevi qualche tregua per rigenerarvi e riacquistare slancio un incontro si rivela molto più piacevole del previsto venere vi regala straordinarie energie creative da mettere a profitto cancro ottima forma fisica ed intellettuale e capacità di trovare brillanti soluzioni di carattere pratico una proposta lavorativa merita di essere presa in seria considerazione in amore alcune contraddizioni possono irritare il partner leone buona intesa emozionale ed intellettuale con la vostra metà nel lavoro il consiglio di un esperto vi aiuterà a prendere la decisione più giusta rifiutate un invito e state di più in famiglia dite no agli eccessi la vostra salute va difesa vergine il bisogno di comunicare vi spinge ad ampliare la cerchia delle amicizie cercate anche di coltivare i rapporti già esistenti che meritano di essere approfonditi qualche contraddizione da parte vostra può creare degli attriti in famiglia cercate di ammorbidirvi bilancia vivacità e voglia di vivere con spontaneità e spensieratezza la giornata qualche incoerenza nella sfera professionale avete bisogno di conferme che non sempre perlomeno le circostanze attuali arrivano mercurio vi apre al dialogo grande comunicativa scorpione grossa carica vitale si accelerano i ritmi del vostro pensiero e delle vostre azioni attenti a non pretendere troppo dagli altri imponendo un ritmo per loro eccessivo ottima occasione per farvi apprezzare cogliete l'attimo qualche sintomo di insufferenza nei rapporti familiari sagittario bisogno di indipendenza cercate di dare prova di autonomia nei confronti dei vostri soci o dei vostri collaboratori in campo sentimentale venere riserva sorprese piacevoli a chi cerca l'incontro finalmente giusto capricorno armonia familiare da difendere non lasciate che il lavoro interferisca una riunione tra amici questa sera fornirà l'occasione giusta per riflettere se sarete più disponibili con gli altri sarete anche voi bene accetti un parente vi alleggerirà del peso di una responsabilità acquario serenità e gratificazioni in campo affettivo nel lavoro un incontro delude le vostre aspettative sdramatizzate e guardate lontano bisogno di dare agli altri fatelo tenendo conto di ciò che veramente ci si aspetta da voi un pesci momenti propizi per riflettere e guardare dentro di voi tante occasioni giuste da non perdere per ricavarvi e mettere a fuoco gli obiettivi che volete raggiungere possibile ritardo nelle entrate cercate di pianificare le vostre spese grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti